Buongiorno dal Marocco Oggi primo giorno del tour Noi in realtà siamo arrivati ieri Abbiamo fatto un primo giorno così Soltanto io e Jimmy Ma oggi iniziamo il nostro tour di 10 giorni E inizia da Marrakesh Con una guida Che ci porterà in giro per la città Alla scoperta di quello che abbiamo visto ieri Ma non abbiamo capito cosa fosse E niente, quindi adesso iniziamo Jimmy non sta in questo caso Parlando a sconosciuti ma alla nostra guida Che è molto carina, si chiama Sharif Queste due palme Sono in realtà finte Perché nascondono Dei ripetitori E per non dar nell'occhio Per non distruggere il panorama Le hanno nascoste in queste due palme È incredibile quanto sia verde Questa città C'è una cura dei giardini Pazzesca Ed ecco un matto Qui stiamo entrando nella casba Che è praticamente l'inizio della medina Diciamo che è la testa Mentre la medina è il corpo Ho detto la guida Non ho capito E lì su ci sono delle cicogne A controllare l'ingresso Ora siamo nel quartiere ebraico Dove praticamente sopra hanno la casa E sotto la bottega E qui vendono sempre un po' di tutto Comunque abbiamo sentito Delle spezie Troppo buone Sono a base di pigmenti naturali Ci sono in tapperano Verde e menta Rosso papavero Arancene Cioè tutto viene fatto con colori naturali Ragazzi abbiamo trovato un nuovo posticino Dove fare il pollo Allora siamo arrivati a pranzo In questo posto spettacolare E per scegliere i piatti Una cosa che facciamo spesso io e Jimmy È andare su TripAdvisor E vedere i piatti Che sono stati fotografati Postati E capire anche così un po' Cosa si sta scegliendo Quale magari ci ispira di più Quale ci ispira di meno Vedete che ci sono già i nomi E quello che alla fine Qui non potresti mai capire Cosa stai scegliendo Allora abbiamo un'insalata di pomodori E un'insalata araba Che è pomodori, cetrioli, uova e colita Yes Sono arrivate le tagine Agnello con verdura Tu hai preso couscous con pollo Ceci Pollo e verdure E verdura Eccolo il pollo Belli Giorno 2 siamo in partenza Da Marrakesh Per le valli All'interno del Marocco Verso il deserto Here we go Siamo nel mezzo del Marocco Praticamente nel deserto Ma siccome c'è un fiume che passa in mezzo Qui è verde Ma io non so se la fotocamera rende quanto verde sia C'è un verde che in Italia davvero vedi nei giardini stracurati e curatissimi E poi sali su E c'è uno stacco assurdo dove praticamente c'è grigio rosso deserto E vo' pazzesco Ci siamo fermati in questo riad per mangiare E adesso vediamo cosa ci offrono Iniziamo con dell'insalata mista Prima tagine E seconda tagine Siamo nella valle del Dades E questo contrasto rosso e verde è qualcosa di fenomenale Bellissimo Siamo arrivati al nostro riad e veniamo accolti con del tè e biscotti Guardate che carino a Riad Dove ci hanno sistemato per questa notte È esattamente sulla valle E ora è mattina E stiamo partendo per continuare il nostro viaggio nelle valli del Marocco Destinazione deserto questa sera Siamo arrivati alla valle del Tudra 450 metri di roccia E fiume in mezzo Pausa nel nostro giro verso il deserto Per pranzo Yes C'è profumo di carne alla griglia Che bello Ah Jimmy qui ti fanno la pizza Ah non è carne alla griglia, è pizza Oh qui si hanno questi menù e qui ne hanno persino 12 E ragazzi davvero costano pochissimo Ad esempio questo qua L'insalata con omelette La carne alla griglia, il dessert Questo è 9,50 euro Oppure le costoline 9 euro Cioè un menù completo E mangi con meno di 10 euro Che bello Iniziamo con l'omelette Omelette au formage E questa è la pizza berbera Quattro formaggi Quattro stagioni Quattro stagioni Ma sembra una però Sopra la stessa no? Et voilà Cuoripisto nel deserto Ah guarda Caracole No va bene Come se non fai a sapere dove erano questi bussi Questo è per voi Davvero si possono portare via? Certo Guarda Perché non Però aspetta Si notano Sono questi Sì sì Raga anche i marocchini mi pigliano per il culo Ha fatto finta di abbandonarmi qui In mezzo al deserto Cioè ragazzi Io ve l'ho detto Che il più pazzo Ce l'abbiamo noi Ciao Non ci credo E' pazzito Oh No E' raccita No Ma qui E' impazzito Guardi 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 E' impazzito Ma dove è rosso? No ragazzi E' matto Ci vuoi uccidere? Senti sinceramente ci ha dato una cosa E' rompimenti perché Ma cos'hai fumato a pranzo? No Puoi schiamare ok Anche tanto mi sa Siamo nel mezzo del deserto Cioè ve lo giuro proprio C'è nulla qui intorno E questa è una famiglia nomade Questi vivono qui Sempre Questa è la loro cucina Il forno di Pavia Loro non utilizzano le case Linea Si lascia il forno caldo E poi lascia il forno Scusa ma cosa cucinano? Pane Questo dove si fa il pane Questo dove si fa il tagine E anche cuscuz Ma dove trovano gli ingredienti? Come c'è Una settimana su Giorno del mercato A Resania Mercato che vediamo domani Ah Ah ok Quindi comunque vanno lì Comprano e tornano qui Certo Però vivono in mezzo al deserto Deserto Ma perché? Qualche loro sono abituati a questa finta Infatti E vabbè Chiedo Non c'è un problema Jimmy the explorer Che regala caramelle Eh? Eh no Attento Che eccolo Siamo seduti su questi Tappeti Berberi Che fanno loro E adesso aspettiamo Il nostro tè Rachid ma è caldo il tè? Un po' Ah un po' Ottimo Vedevo l'ora 45 gradi Tè caldo Ottimo Adesso siamo pronti Per partire Per questa avventura Abbiamo dovuto aspettare Che la temperatura scendesse Ma adesso siamo tutti belli Preparati Vestiti Io ho comprato questi pantaloni Che sono bellissimi Azzurri e bianchi E con il turbante Adesso partiamo Ovviamente Jimmy sta già fraternizzando Parlando con gli altri A me non mi considera più È finito tutto l'effetto romantico Del viaggio sul cammello Non mi sorprende Però è strano Ecco Vabbè Comunque io parlo con voi E con il mio amico cammello E l'amico E siamo nel deserto Sono sul cammello Siamo arrivati all'accampamento Qual'è la nostra tenda? Quella? Oh iniziamo questa cena nel deserto Con Uh È entrato Ah Pretende Oh Tajin di Thank you Thank you Bollente Fuma ancora È tutto caldo Qui ragazzi si muore di caldo Ci siamo svegliati alle 6 del mattino Per vedere l'alba Le nuvole Abbiamo avuto sfiga Ieri sera non si è vista nemmeno una stella Cioè vabbè qualcuna Perché era pieno di nuvole Però è stata un'esperienza fantastica Cioè Sì Fantastica nel senso Abbiamo alla fine non abbiamo dormito sotto le stelle Ma abbiamo dormito in tenda Perché io ho pure gli animali E c'era un caldo 40 gradi in camera È stata una notte lunga Molto lunga Oh e l'alba è arrivata Che bellissimo Sia in mezzo a nulla Totale È una scimmia Credito E adesso lasciamo l'accampamento Sempre sul cammello Per ritornare a Riyadh E fare colazione E Jimmy stiamo morendo di fame Comunque qui sono tutte cacche di cammello E Jimmy in ciabatte Ecco Non so se è un po' pesante Come? Vai Titi Aspetta Ok Siamo ritornati a Riyadh E ci hanno preparato la colazione Che è tutta coperta Vediamo cosa c'è Non lo so Olio Formaggio Marmellata Marmellata Olive Uova Zucchero Poi hanno preparato queste piadine Cosa? Io Siccome i miei problemini Sono preparato sia le mandorle Che i semi cannafa E sotto anche dell'avena Che però Sta per finire Finito il tour nel deserto Siamo ripartiti verso le città Facendo però una mini sosta A Midelt E poi siamo venuti nel mercato più antico del Marocco Questa è la sezione delle spezie e degli odori Erbe medicinali Tutto naturale Le spezie ce le abbiamo già No no Sì Stop per il pranzo In questo giardino Sì all'ombra In molti su Instagram mi avete chiesto come mi sono organizzato Comunque come sto sopravvivendo per il senza glutine E essenzialmente quando vado a pranzo e cena Prendo sempre le tagine Che sono delle specie di pentola a pressione possiamo dire Dove loro mettono gli ingredienti Poi le mettono sul fuoco Mettono il coperchio E essenzialmente te lo portano a tavola pronto Quindi non c'è contaminazione Cross contamination E sono essenzialmente senza glutine Perché se non ci mettono il couscous Sono senza glutine E ad esempio in questo ristorante Sono fatte lontano dalla cucina dove cucinano il pane Quindi sono 100% sicura Pranzo con bruschette No, bruschette Che sono spiaglini Di carne Sajin E mosche Siamo arrivati nel riad a Midelt Guarda Bellissimo C'è cena E come ogni sera tagine Torneremo tagine Giorno di viaggio numero 5 Partiamo alla volta da Città Imperiale Fess Siamo nel bosco di Cedri dove ci sono le scimmie Che fai? Le pulci? Guarda I pesca le pulci e se le mangia Aiuto Ma sono umanoidi Guardali Si spulciano Comunque c'è paura a fare la foto con loro Sono un po' aggressivi I piccoli hanno paura Siamo nel riad di Fess Permesso Oh mio Dio È bellissimo E questa è la nostra stanza Oddio ma è enorme Ciao la Cid Bella Bellissimo Oggi pomeriggio abbiamo fatto un giro per il souk Di Fess E è stato davvero carinissimo Abbiamo trovato un sacco di souvenir Però domani Visitiamo la città con la guida E quindi domani vi faccio vedere tutto Ora mangiamo Oh che carina parla Tutte le verdure per me E il pane per Jamie Jamie No Dai lontano Buon appetito Grazie Grazie Tajin con Carne e uova E un litro d'olio Oh il nostro tour inizia A questa porta Vicino il Quartiere ebraico Qui a Fess si contano quasi più dentisti che gatti Perché la gente mangia troppi dolci A detta della guidagna Io Consento e sono d'accordo Ecco Jimmy che già inizia a installare rapporti con la nostra guida E io qua Yes Quartiere ebraico Si caratterizza per Presenza di Terrazzi e balconi Siamo in un punto panoramico Dove si può vedere tutta Fess Tutta la Medina di Fess È enorme Conta più di 9400 strade Siamo nel quartiere dei ceramisti Siamo in un punto panoramico Lo faccio io Mi hanno una correnta Olè Olè Bravo Sono tutti colorati Siamo nella Medina di Fess E devo dire che è abbastanza claustrofobica Qui non puoi essere sovrappeso Ti immagini un tipo un grosso palestrato Qui non ci passa Il bicipite che ha quel figliolo Allora questa è una conceria dove puliscono e colorano le pelli Lì nel bianco c'è acqua Calce 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 Acqua Calce E Cacca di piccione Perché contiene ammoniaca E le tengo lì di stimare per pulirle E poi le portano nei vari pozzi di colore Che sono tutti naturali E li colorano E sono pelli di dromedario Mucca Montone Pecora Assurdo Siccome qui l'odore è fortissimo Ci hanno dato un filetto di menta Ma si sente ugualmente Lavorato con queste fibre Questa è seta di agave Sì C'è l'agave a questi fili dentro Sì C'hanno tanti tanti fibre dentro E come fate a metterli tutti Alla In carti industriali Con la macchina Dopo che viene lavorato Sì Lavorato viene come queste Che è più morbido Che è seta di queste Dopo due giorni a Fes Siamo pronti a partire Verso la città blu Shashon Siamo arrivati a Shashon Che è la città blu E adesso andiamo a pranzo E poi la visitiamo È molto piccolina Quindi infatti ci staremo Soltanto mezza giornata E È carinissima però Perché è tutta blu Questa sembra davvero come nelle foto Allora siamo arrivati a pranzo E qui sembra madonna In un posto carinissimo Ma ragazzi Questa è la situazione dei tavoli Vabbè io mi siedo Vi possiamo sinceramente dire Che Shashon È la città più profumata Fino ad ora Vero? Concordo C'è un profumo di cannella Caramello Non lo so È buonissimo Davvero profumatissimo Ha un profumo Basta Non specificiamo Non sappiamo Non specificiamo Dopo pranzo abbiamo fatto un ultimo giro Siamo ritornati in camera Ci siamo un pochino riposati Ci siamo fatti una doccia Ci siamo cambiati E ragazzi siamo super instagrammabili Per questa città blu Abbiamo fatto delle foto strepitose Abbiamo trovato un angolino Che ci ha fatto entrare a pagamento 50 centesimi a testa per fare le foto Ma vi giuro Cioè abbiamo tirato giù l'angolino Il tizio non ce la faceva più di noi Ci vuole lanciare Però su tutte le foto bellissime E davvero questa città merita Che bello Io e Jimmy abbiamo notato che Nonostante questa città sia più turistica E la sera sia più animata C'era qualcosa che mancava E abbiamo scoperto essere La musica di sottofondo Che in Italia O comunque Dovunque In Spagna In Grecia Eccetera Lasciano i bar Non c'è musica È silenzioso Ci sono soltanto urla Di bambini Schiamazzi E gente che parla Piacevole E tutto Però la musica di sottofondo Dei bar Manca Dopo mezza giornata session La mattina dopo Eravamo già pronti Per partire la volta di Mc Ness Arrivati a Mc Ness La nostra guida Ci ha portato a mangiare In questo ristorante Super Royal Allora recentemente Non vi ho più fatto vedere Cosa abbiamo mangiato Perché alla fine Sembra questa roba Tagine eccetera Ma oggi Il vento più unico Ha trovato la pastiglia Che è tipo una Tortina di pollo Cos'è Vediamo La apri Ma c'è la cannella Sopra Mi sa un po' Ah è tipo Filopastry Ripiena di carne Bella Bella questa Non l'ho ancora trovata No Comunque Sì ma non ci ispirava Non ci ispirava Oddio Piene cannella Ok E io Ho questa Che è davvero La mia tagine preferita E questa Cercherò di rifarla Anche a casa Perché è semplicemente Macinato Pomodoro E un uovo aperto sopra Ma è buonissima Davvero Tanto bella Quanto Schifosa È carne cucinata Con la cannella Nella filopastry E cannella Cioè carne dolce Not in prest Povero G Cioè questo bacino d'acqua È nel centro di Mcness Che è il centro Che è fatta tutta concentrica E ci sono delle mura più grandi Poi più piccole Ma ci si fa pure il bagno qua I giardini reali Sono sai trasformati In un calpo da golf Con nove buche Sì non tutti Parte Fico Dopo il giro per Mcness Siamo arrivati in Riyadh Siamo abbastanza stanchi E quindi abbiamo passato il pomeriggio A rilassarci A Porto Piscina E io l'ho anche passato a leggere Dal Kindle Che mi ha regalato La Vale Per la mia laurea Dopo una notte a Mcness Abbiamo raggiunto La vicinissima città imperale Rabat Siamo arrivati a Rabat Dove c'è La terza torre Gemella Di quella che abbiamo visto A Marrakesh E che abbiamo visto L'anno scorso A Siviglia Quindi oggi Completiamo la triade Delle torri E qui siamo Nella piazza davanti La torre Che è davvero bellissima Che stupendo Quante bandiere Madonna che casino Che figo C'è È talmente incasinato Che è quasi figo Ciambelle Ciambelle Bomboloni Ma guarda Quelle ciambelle C'è davvero Ecco le ciambelle Che bello Madonna ma c'è puzzo C'è Non so C'è puzzo di merda E infine Abbiamo completato Il nostro tour Ritornando A Marrakesh Tornando da Rabat Verso Marrakesh Ci siamo fermati A Casablanca Dove c'è Questa moschea Che è l'unica visitabile Ma purtroppo Siamo fuori Orario visita E quindi Non riusciamo A vederla Un consiglio Che mi sento Di darvi È che in questi posti Dove l'acqua Non è poi così Sicura Non bevete mai Il ghiaccio Perché non è fatto Con l'acqua naturale Bevete sempre Della bottiglietta E chiedete Acqua fresca Da frigo Ma mai Bere Il ghiaccio E finalmente Pesce Oddio Siamo ritornati Dove tutto è iniziato Siamo appena arrivati A Marrakesh E stiamo E stiamo Raggiungendo Il nostro riad Per poi Andare a cena Questa sera Io ho fame Tanta fame E in realtà Sono felice Perché questa è La nostra ultima cena Quindi Mi goderò Davvero Le ultime Tajin Marocchine Prima di poter tornare in Italia E godermi la pizza Non vedo l'ora Davvero Di tornare a casa A mangiare Cibo italiano Perché noi abbiamo La migliore cucina Io l'ho già fatta Io l'ho già fatta Non so se è visibile Perché dice ci vogliano 48 48 ore almeno Da quando L'hai Siamo arrivati in aeroporto Ma nonostante Avessimo già fatto Il check in Dobbiamo rifare La fila Del back drop Perché ci devono Mettere un timbro Sul foglio Non so Riportatemi a casa Scusate la brutale interruzione Del video Ma Da quando siamo tornati Io e Jimmy Siamo stati malissimo Oggi È una settimana Dal giorno in cui siamo tornati E ci stiamo un pochino Riprendendo Da ieri Ma ci tenevo a chiudere Questo video Nel prossimo video Vi darò tutte le informazioni Sul tour Su come l'abbiamo organizzato Sui consigli Che mi sento di darvi Eccetera L'ho appena finito di filmare Quindi è sicuro Che lo farò Concludo questo video Dicendo che per me Questo viaggio È stata una vittoria Perché Non so se l'avete notato Nel video Ma Tutte le cene Erano organizzate Nei riad Quindi Non erano al ristorante Quindi non avevo neanche L'opzione Di poter scegliere Cosa mangiare Noi arrivavamo E il riad Ci dava da mangiare Quello che aveva premeditato Quello che aveva deciso E infatti Noi scoprivamo Lì per lì Cosa mangiare Perché questo discorso Perché Per me Qualche anno fa Fare un viaggio del genere Sarebbe stato impossibile Io ero una maniaca del controllo Dovevo pianificare Tutto quello che dovevo mangiare Esattamente l'ora E non potevo Andare avanti Durante la mia giornata Senza pensiero fisso Di cosa avrei mangiato Cosa non avrei mangiato Eccetera E invece Questo viaggio Mi ha totalmente stravolta O meglio Mi ha fatto capire Una cosa che magari Recentemente Stavo dando per scontato Che è la mia libertà Il fatto che Non ho più schemi Davvero Perché Ho totalmente Vissuto questi 12 giorni Senza neanche accorgermene Del fatto che Stavo mangiando qualcosa Che non avevo premeditato O che la colazione Non era la colazione Della mia vita Qualcosa che mi appagasse Totalmente E me ne sono accorta Soltanto adesso Editando il video Ho fatto anche un post Su Instagram a riguardo Quindi se non l'avete visto Andate a leggerlo Magari sono stata Un pochino più chiara Perché adesso Sto parlando così A bambera E a rotta di collo E basta Io spero che questo video Vi sia piaciuto Scusate per la lunghezza Ma rendere 12 giorni Corti In 20 minuti È stato davvero impossibile Quindi ho dovuto allungarlo E basta Ci vediamo nel prossimo video Un bacio Ciao ciao Ah Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E lasciate un commento Ciao ciao